Sondrio è la miglior provincia d'Italia per qualità della vita per i bambini. Gorizia è la migliore per i giovani, Trento per gli anziani. E' quanto emerge dal Festival dell'Economia di Trento che ha analizzato la classifica di qualità della vita per generazione anagrafica in Italia, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. In tutte e tre le classifiche domina il nord Italia per quanto riguarda la top 10. In tutte e tre le graduatorie Pesaro Urbino si posiziona a metà della classifica nazionale ma con alcuni distinguo. Il risultato meno positivo lo si registra per qualità della vita dei bambini dove Pesaro Urbino è 58esima su 107 province italiane ma è significativo come sia fra le peggiori marchigiane preceduta da Ancona 19esima, Macerata 22esima e Ascoli 31esima. E' una classifica che tiene conto di parametri quali spazi verdi, disponibilità di asili e servizi, disponibilità di pediatri e progetti PNRR per l'istruzione. Migliore è invece la classifica per quel che riguarda la qualità della vita per i giovani fra i 15 e 39 anni. Qui Pesaro è 42esima della miglior marchigiana in una classifica che contempla spazi dedicati, occupazione, imprenditorialità, quoziente di inuzialità ed età media del parto. Classifica analoga per quel che riguarda la qualità della vita degli anziani con Pesaro 45esima in una graduatoria che analizza speranza di vita, servizi sanitari, luoghi dedicati e spazi disponibili in RSA. Grazie a tutti.